Un saluto ben ritrovati come state, un abbraccio a tutti, mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi e commentate Prima di partire con la notizia incredibile, vi voglio ricordare di fare un salto su calcioitmania.com Vi metto qui sotto il link, avete tutti i prodotti di calcio, guardate io cosa ho preso per mia moglie Questa bella tuta, c'è anche il pantalone, questa per mia mamma con la scritta Paris del PSG Ci sono di vari club, ci sono anche le magliette, le magliette vecchie, questa fantastica Avete con il codice AL10 il 10% di sconto e delle produzioni che vi possono portare anche ad avere gratuitamente delle maglie Vi metto qui sotto il link, tantissime magliette vecchie, di tutto di più, diversi prodotti, calcioitmania.com, codice AL10 La qualità è molto buona, il prezzo è sicuramente molto buono e avete anche le taglie come le nostre Quindi le taglie sono quelle normali Allora ragazzi, situazione della Juventus, sta succedendo di tutto la Juve Elkan l'altro ieri ha detto, Allegri è concentrato sulle prossime due partite Rimandando l'orizzonte temporale alle prossime due partite, non alla prossima stagione Poteva essere, era l'occasione per dire, costruiamo insieme il futuro Invece no Giuntoli è d'accordo con la Juventus Ma De Laurenti vuole un indennizzo Giuntoli però vuole cambiare Allegri Tra i due non corre buon sangue Allegri, appena saputo del probabile arrivo di Giuntoli Si è arrabbiato, perché non è stato informato Quindi o uno o l'altro, salvo clamorosi colpi di scena La Juventus ha contattato Igor Tudor Tecnico, ex giocatore della Juve Che abbiamo visto anche in Italia gli scorsi anni Quest'anno al Marsiglia Classifica il Ligan, Marsiglia terzo dopo l'Anne e il Paris Saint Germain Era stato anche la Juventus come vice di Pirlo Ma quello bravo non era Pirlo, era Tudor Pirlo tra l'altro appena esonerato in Turchia Ebbene, per quanto riguarda Tudor Ci sono stati dei contatti E da parte di Tudor la piena disponibilità a tornare alla Juventus Questa volta come primo allenatore Quindi dovrebbe essere il ticket giuntoli Tudor A far ripartire la Juventus il prossimo anno Senza però l'Europa Anche se oggi la Juventus, vista la vittoria di ieri dell'Inter È in Conference League al settimo posto Una ulteriore penalizzazione dovrebbe escludere la Juve dalle coppe Ma non farà partire l'anno prossimo con il segno meno In tutto questo attenzione perché è in dubbio anche il futuro di Vlaovic Di Maria andrà via Rabiot andrà via Pare adesso andrà via Su questo non c'è dubbio Igor Tudor con giuntoli in una nuova Juventus Che riparte Che impressioni avete su questa possibile coppia? Commentate qui sotto Allegri via Poi lo pagano fino all'ultimo oppure no Anche questo sarà molto interessante da capire Iscrivetevi numerosi Lasciate un bel like E vi ripeto fate un salto su calcioitmania.com Qui sotto c'è il link perché ci sono tanti prodotti Bellissimi Questa è la maglia di Savice Insomma c'è di tutto e di più Divertitevi Codice AL10 Un abbraccio